Lunedì 15 luglio 2019, 196esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda San Bonaventura. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Anna Maria. Il nome è composto e significa graziosa signora. Il numero portafortuna è il 7, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 15 luglio del 1997, a Miami Beach in Florida, lo stilista Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola fuori dalla sua villa da Andrew Cunanan, un tossicodipendente serial killer, reo di aver assassinato in precedenza altre persone e per questo da tempo ricercato. Dopo una misteriosa fuga, Cunanan si uccise a sua volta prima di essere catturato dalla polizia statunitense. Andrew Cunanan non pote quindi essere interrogato, né a suo carico fu istituito un processo. E' stato anche ipotizzato che Cunanan fosse stato ucciso e comunque che non fosse morto lì dove era stato rinvenuto il cadavere, che fu subito cremato, rendendo impossibile una eventuale successiva autopsia. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati oggi ricordiamo il fumettista Guido Crepax, nato a Milano il 15 luglio 1933. Crepax ha profondamente influenzato il mondo del fumetto europeo dalla seconda metà del ventesimo secolo, grazie soprattutto al suo personaggio più famoso, Valentina. Ideato nel 1965, caratterizzato dal disegno sofisticato e dalla trama in genere, con una forte dose di erotismo. Le frasi del cinema Il perdono libera l'anima e cancella la paura Dal film Invictus, l'invincibile Proverbio del giorno Sette balie fanno il bimbo cieco Proverbio russo Il perdono libera l'anima e cancella la paura